La festa degli innamorati, San Valentino, un giorno nel quale le persone dedicano il proprio tempo alla dolce metà facendo cose come una cena romantica piuttosto che una gita fuori porta o anche semplicemente dedicando le proprie attenzioni o il proprio tempo libero alla propria amata o al proprio amato ed è una giornata che per me da 33 anni in questa parte non è di festa perché è una giornata che io passo da solo e senza nessuno e non è mai una giornata felice nella quale mi faccio tante domande su cosa c'è che non va, su cosa ho che non va su cosa potrei fare per cambiare o su cosa ho sbagliato o su quello che non ho fatto e sono tutte domande nelle quali affogo, affogo perché non ho la risposta o se gli ho dato una risposta evidentemente dovrà essere qualcosa di sbagliato ecco e al contempo mi accorgo anche che più avanti il tempo più è importante una persona con la quale condividere il proprio tempo, le proprie emozioni non ho neanche semplicemente uno sguardo o un'opinione ed è una cosa che a me manca non so come completare, come completarmi e non so né se mai ci riuscirò e non so neanche quando ci riuscirò pur rimanendo questa una cosa che ci tengo a fare ma la quale non so come, non so bene in come reagire e sicuramente se fino ad oggi comunque è stato, questo giorno è stato non felicissimo cercherò comunque da oggi di dare un senso a questa cosa ovvio che questa giornata non sarà mai felice, non potrà mai esserlo per me ma comunque nei prossimi giorni o nei giorni a seguire cercherò almeno di essere un po' positivo e di cercare di pensare più ardentemente e più intelligentemente al mio futuro